Buongiorno a tutti, ben ritrovati, ben sintonizzati, grazie di aver scelto Nettuno TV sul canale 99 in televisione in questa mattinata, questo mercoledì 11 luglio 2018. Grazie a chi ci segue anche in streaming attraverso il cellulare, il computer, il tablet su www.nettunotv.tv. Le nostre dirette televisive anche per quanto riguarda queste giornate, i collegamenti da Pinzolo anche in diretta sulla nostra pagina Facebook, insomma con anche i telegiornali, insomma davvero una piccola grande rivoluzione per quanto riguarda anche il mondo social di Nettuno TV. Piccoli ma forti, tenaci, ci facciamo sentire, soprattutto cerchiamo di farci vedere quotidianamente. Ma siamo subito sulle pagine del resto del Carlino di Bologna in questa mattinata, cominciamo dal Carlino, come detto uno scaffale cade nel negozio ferito un bambino di tre anni, un gancio ha trafitto il piede del piccolo che è stato operato d'urgenza, i genitori chiederemo risarcimento, il mobile non era fissato bene, paura in via Rizzoli a Bologna, una cliente ha soccorso il piccino. E poi volata per lo stadio, il progetto di Saputo è quasi pronto, ora tocca al comune, museo si parte a settembre, ancora dalla prima pagina del quotidiano, poi era stata creata molta molta attenzione sul primo confronto pubblico tra il neo senatore e sottosegretario della cultura della Lega Lucia Borgonzoni e l'arcivescovo di Bologna. Ieri la presentazione di questo incontro per ricordare il cardinal Giacomo Biffi, oggi tra l'altro ricorre proprio il terzo anno dalla sua scomparsa Santa Messa in suffraggio nel cardinal Biffi, questo pomeriggio 17.30 dalla cattedrale di San Pietro, preseduta dall'arcivescovo di Bologna, la diretta televisiva di Nettuno TV, canale 99, ovviamente immancabile. Migranti in San Petronio, zuppi contro Borgonzoni, titoli il resto del cardinal di Bologna, aiuti rinunciabili o NG, ma lei va via prima della fine, aveva da prendere un treno, ma su questa ipotesi hanno, diciamo così, vedrete anche i titoli degli altri quotidiani di Bologna, hanno un po' costruito una sorta di giallo, di mistero o di contestazione. Perizia sulla morte di Alessio è stato un errore umano, domani i funerali dell'orafo 42enne per la procura e il paracadute non aveva problemi. E poi Pappe Camst controlla Ribò, i centripasti di Elior e poi quelle Odissea a bordo del 101, sedili scomodi e niente aria, parliamo di autobus. Prima pagina anche per il Corriere di Bologna, Rimini le ronde nere in spiaggia, Forza Nuova lancia il pattugliamento insieme ai neofascisti polacchi di ONR contro gli invasori. A un anno dallo stupro in riva al mare, PD, Leo e gli antifascisti presidi per impedirle. E poi dibattito zuppi Borgonzoni, ma lei non ascolta il vescovo, migranti, la senatrice va via, ho un treno. E poi ancora Ferrari, questo governo non conosce le nostre aziende. Il presidente regionale di Confindustria, scusate, ancora una volta, diciamo così, mette nel mirino il governo, così come sta facendo il presidente nazionale di Confindustria. Benetton, crolla uno scaffale, bimbo di tre anni ferito ad un piede, la denuncia della famiglia, il piccolo è ricoverato all'ospedale Rizzoli. Poi Alessio, l'ultimo saluto con gli amici base Jumper, giovedì funerali, aperta un'inchiesta. Passante c'è la conferenza, esulta Viale Aldomoro, ma Bugani dice solo un atto dovuto, quindi non è che voglia dire che si vada avanti con il passante. Tra poco andremo a sentire anche le parole abbastanza determinate e arrabbiate del presidente Bonaccini. La regione censisce gli alloggi Airbnb, sono almeno 9 mila in tutto il territorio, obiettivo nuove regole e le tasse. E poi ancora l'alternativa dei sindaci PD e Pizzarotti si avvicina, l'iniziativa sempre da questa prima pagina del quotidiano. Andiamo anche su Repubblica di Bologna, Borgonzoni, Zuppi e i rifugiati, il Vescovo replica lei e lei se ne va, questo è il titolo scelto da Repubblica. Gaffi in San Petronio, la leghista parla poi esce, Don Matteo non abbandonateli in mare. Il Vescovo ascolta, il sottosegretario no, in una scaletta del tutto stravolta con il padre cappuccino Ivano Puccetti, che parla per primo, quando avrebbe dovuto intervenire per ultimo, quello che produce il colpo di teatro è l'uscita anticipata della neosenatrice Lucia Borgonzoni perché attesa in Parlamento, come ha detto il conduttore della serata Paolo Francia. Ma se quello di ieri sera nella sala della musica di San Petronio, organizzato dal primicerio della Basilica Donoreste Leonardi, doveva essere un confronto di opinioni, il confronto non c'è stato. Il primo ad essere dispiaciuto è stato il Vescovo Matteo Zuppi, che più volte si è rivolto alla sedia vuota, esprimendo il suo garbato rammarico. E poi la risposta del Governo siamo noi, sindaci PD con Merola e Pizzarotti, ancora da questa prima pagina di Repubblica. E poi Italia ai vitalizi dei parlamentari, Prodi ci rimette, Fini e Parisi no. E poi la doppia voce del potere a 5 stelle, Giovanni Egidio, che firma il commento sul quotidiano che dirige Repubblica di Bologna. Poi si parla anche di calcio, l'argentino Paz nella Babele, difensiva del Bologna Calcio, l'unico italiano del reparto ai calabresi. Di Vaglio esalta il nuovo arrivato, forza, bel sinistro e grande personalità. Indietro tutta, anziché avanti, così si vince un mondiale, il weekend del retro running. Questa è ancora la prima pagina di Repubblica. Ma andiamo sulle pagine anche del QS, il quotidiano sportivo, l'inserto del QN che parla di sport. Invidia mondiale, Belgio capò la Francia in finale, 12 anni dopo la notte di Berlino. E noi a guardarla da casa, stasera c'è Croazia e Inghilterra per conoscere la sfidante. 12 anni fa era il 96, lo ricorderete, la notte magica di Berlino, dove appunto l'Italia sconfisse la Francia conquistando il quarto titolo mondiale. Destro tutto amici e sorrisi per il rilancio, questo è ancora il tema lanciato dal QS Sport. Poi la Serie A2 proseguono le ricerche del lungo, Benevelli firma, la fortitudo abbraccia un figlio d'arte, Papamos giocò nell'aco. E poi Champions, oggi la Virtus scopre le rivali, piace Embaie, basket serie A1. E poi Andy Bike, i progetti di Zanardi al centro Inel di Vigorso, voglio arrivare fino ai giochi di Tokyo 2020 e cominciare a individuare nuovi talenti. E poi Giorgi saluta Wimbledon a testa alta, Camilla parte forte ma cede poi a Serena Williams, nulla da fare contro la regina del tennis di questo momento. Ma comunque situazione decisamente positiva. Ma dicevamo del tema del passante nord, qualche movimento, qualche arrabbiatura, qualche situazione. Allora ieri abbiamo intervistato Stefano Bonaccini proprio su questo tema. Andiamola a sentire. Noi rischiamo che se si riparte da capo non lo si farà mai più. E io credo questo tra pochi anni sarebbe un danno economico per la regione, per il sistema delle imprese, per il turismo che sarebbe devastante. Tenete conto peraltro che questa opera è una di quelle che abbiamo inserito nel patto per il lavoro, approvato pochi anni fa col consenso di tutte le parti sociali. Dai sindacati, l'associazione di impresa, per arrivare alle università, eccetera, ai territori, ovviamente alle amministrazioni locali. Quindi ci confronteremo, come avevamo chiesto, a metà settembre e noi siamo convinti che anche tecnicamente ci siano tutte le ragioni per andare avanti. Perché se vuole bloccare bisogna che ci spieghino cosa si vuole fare in alternativa. Perché non è sufficiente, per quanto è importante farlo, rafforzare il sistema ferroviario metropolitano, che peraltro sapete faremo e abbiamo ottenuto centinaia di milioni di euro in quel senso, né rafforzare il trasporto collettivo, che peraltro faremo e anche qui ci sono importanti misure come quella del premio che daremo ai pendolari che non usano il mezzo privato. Ma è chiaro che ci sono l'attraversamento di Bologna anche dato da chi percorre centinaia di chilometri per temi di lavoro, di impresa e di turismo. E quindi adesso apprezziamo questa convocazione e lì giocheremo tutte le carte che dobbiamo giocare. E andiamo adesso a dare uno sguardo, come di consueto, alle prime pagine anche dei quotidiani nazionali. Questi avvenire, uranio impoverito, basta con i silenzi. Trenta sia al sindacato militare o a NG rispetto. Il nuovo ministro della difesa promette di fare luce sulle munizioni contaminate. Mediterraneo resti un mare aperto. E poi ancora 3 milioni a rischio di azzardopatia, denuncia dei monopoli, Confindustria chiede e difende però il settore. E poi allarme dei banchieri, pericolo argentina, Savona pronti a tutto. All'assemblea Abbi richiamo ad una non allontanarsi dalla Europa. E poi Santa Sede, umane vite, c'era altro testo che Paolo VI fermò, nuova rivelazione. E poi ancora il dramma della grotta in Thailandia che ieri è stato il trionfo. Ultimo l'allenatore, salvati tutti e 13 e l'incubo finisce dopo 18 giorni. Di resto ovviamente il rammarico per quel sommozzatore che si era messo in ferie per andare soccorritore, per andare a aiutare i bambini che purtroppo invece ha perso la vita. Vertice nato, tensione alla vigilia, l'Europa teme una rottura di Trump. Però per quanto riguarda, tornando al tema della Thailandia e della grotta, ovviamente, come dire, ringraziamo il Signore. Perché tutto è andato per il meglio per questi bambini che sono finalmente tornati nelle loro abitazioni. E' un fatto che ha tenuto davvero con il fiato sospeso tutto il mondo. Siamo su Repubblica, prima pagina. Trump sbarca nell'Europa divisa. Il vertice sui migranti mostra la deriva populista dell'Unione Europea. Savona paventa l'uscita dall'euro. Salvini cerca di chiudere i porti pure alla nave della Capitaneria italiana. Nuovo scontro tra la Lega e il Movimento 5 Stelle. E poi Cristiano Ronaldo e Juventino, un sogno da 117 milioni di euro. E poi ancora, sempre dalle pagine dei quotidiani nazionali, le prime pagine, il QN, il resto del carino, sceglie proprio di aprire su Donado, su Cristiano Ronaldo, scusate, Ronaldo d'oro, colpo del secolo, il super campione alla Juve, 31 milioni netti all'anno, contratto fino al 2022. E poi Thailandia, liberi tutti il miracolo dei 12 bimbi e di un esercito di eroi, poi l'ultimo uscire è stato l'allenatore, poi il reportaggio, emigranti, lite tra ministri, alta tensione al Brennero, poi rieletto all'Abi, Patuelli, Italia al Bivio, tra Europa e Argentina. E ancora, carambola con la moto, George Cloni rischia grosso in Sardegna, ma è salvo, il divo si schianta contro un'auto, poi superpotere per pochi, memoria prodigiosa agli otti italiani che ricordano ogni minuto della loro vita. E poi sul nazionale, sul QN c'è anche la notizia che riguarda Bologna, scaffale cade addosso ad un bimbo piedino trafitto da un gancio, il piccolo di tre anni è stato operato d'urgenza, ma tutto è andato fortunatamente per il verso giusto. Prima pagina anche del Corriere della Sera, tutti salvi i bimbi della grotta, Thailandia, missione riuscita, 12 ragazzi allenatore fuori dopo 18 giorni, i soccorritori non sappiamo se è stata la scienza o un miracolo, ma stanno bene. K, il mister orfano che adesso rischia di essere processato. E poi Ronaldo, il sogno realizzato, il giocatore icona del calcio moderno ha detto sì alla Juventus, e guadagnerà 30 milioni all'anno, 30 milioni all'anno netti, sono 2 milioni e mezzo al mese netti, insomma una bella cifretta. SOS, mail e mail, scusate i divieti, l'odissea della nave che divide i ministri, sempre da questa prima pagina dei quotidiani, e poi molestata a Roma, chiedevo aiuto, nessuno reagiva. Poi sulla prima pagina del Corriere della Sera c'è spazio anche per i mondiali, la Francia supera il Belgio e afferra la finale del mondiale, 12 anni dopo, quella finale proprio che la Francia disputò con l'Italia, e l'Italia appunto vincemmo noi in quell'occasione, ma stavolta però l'Italia non ha partecipato ai mondiali e la Francia invece è lì in finale. Il giornale Salvini fa arrestare i clandestini ribelli, emergenza e immigrazione, scontro con Toninelli, nave militare vaga nel Tirreno e poi allarme sui conti per Savona possono cacciarci dall'euro, il decreto dignità si incaglia sul lavoro, lo studio bufala l'abuso dei voucher, i timori dei banchieri. E poi il sogno diventa realtà, Cristiano Ronaldo ora è della Juventus, affare del secolo per 117 milioni di euro, e poi il pressighe azzurro spaventa la Lega, le mosse di Forza Italia, e poi salvi tutti e 13 l'ultima favola con il lieto fine. Gli otti italiani con la super memoria che fanno impazzire gli scienziati, vantaggio o maledizione, titola il quotidiano. Andiamo a chiudere la carrellata sui quotidiani nazionali andando a pescare anche la stampa, Ronaldo alla Juve porta l'Italia del calcio 4.0, tutto il mondo ora ci guarderà, quel brivido che scalda Torino. E poi l'offensiva delle banche, più riforme e più Europa, doppio passaggio al messaggio al governo, Novisco siamo più vulnerabili, Pattuelli, rischio Argentina. E poi la Guardia Costiera salva 67 migranti e lite nel governo, e poi Belsito, Salvini batteva cassa per Radio Padania. L'ex tesorieri, 40 milioni c'erano, adesso Belsito si comincia a togliere probabilmente qualche sassolino dalle scarpe. E poi giochi Milano Avanti con Appendino, ma Appendino conta sul soccorso di Di Maio, e poi l'ultima di Putin, Paradiso Fiscale su due isole russe. E poi ancora Mondiali, la Francia, Dome e il Belgio, da Croazia e Inghilterra, l'altra finalista. E poi Tailandia, finisce l'incubo, chi sono gli eroi che hanno salvato i 12 ragazzi. E fra questi c'è purtroppo anche da mettere un eroe che non è tornato, ha perso la vita, diciamo così, per impegnarsi per questi ragazzi. Siamo sulle pagine, torniamo a questo punto sulle pagine dei quotidiani locali, siamo sulle pagine del resto del Carlino di Bologna, al di là del tema dello stadio, c'è un altro tema sul quale voglio arrivare, che è questo incontro tra Zuppi e la Borgonzoni, l'incontro del sottosegretario impossibile prendere tutti i migranti, la leghista parla e poi se ne va senza sentire l'arcivescovo, Don Matteo, bisogna aiutare i bimbi che muoiono, le ONG non complici degli scafisti. Questo è un po' il tema, il sottosegretario Gabriele Tassi che firma questo articolo sulle pagine del resto del Carlino. 18 anni fa era il 2000, l'anno delle incertezze, il nuovo millennio, l'affacciarsi per la prima volta del problema immigrazione. 18 anni fa siamo stati presi alla sprovvista, i nostri ancora tornavano in patria e oggi lo siamo ancora con i nuovi che arrivano. Tre anni dalla scomparsa dell'arcivescovo cardinale di Bologna su quel Giacomo Biffi che disse la sua durante il seminario della fondazione Migrantes del 30 settembre del 2000, l'attuale arcivescovo Matteo Zuppi si è confrontato ieri in San Petronio con Lucia Borgonzoni, senatrice della Lega, sul tema appunto della immigrazione. E poi ancora sempre dalle pagine del resto del Carlino di Bologna c'è il tema dello stadio, caccia ai trofei smarriti per il nuovo museo, collezionisti a raccolta già dal prossimo campionato esposizioni temporanee, lo spazio entro tre anni, nel frattempo il club pensa ad allestimenti nella torre di Maratona. E poi dall'Ara i conti tornano, ora la palla passa al Comune, i tedeschi di Ece siamo pronti da mesi, speriamo sia la volta buona. L'accordo, l'intesa firmata tra Sece e Ece potrebbe sbloccare uno dei nodi più importanti permettendo al gruppo Maccafferi di recuperare le risorse da investire nei lavori di riqualificazione dello stadio che non sarebbero solo sulle spalle di Gioe Saputo. La riqualificazione, secondo il Comune, il progetto rappresenterebbe un'occasione irripetibile per cambiare volto all'area dei prati di Caprara. La società Saputo ha messo il nuovo stadio al centro del progetto di crescita della società promettendo che la squadra non cambierà casa durante i lavori. Prati di Caprara, iniziate intanto la bonifica degli ordigni bellici, l'ironia del Comitato, sempre da queste pagine del resto del Carlino di Bologna. E poi il mobile cade e ferisce un bimbo ancora dal Carlino, la tragedia sfiorata, il crollo, il piccolo stava curiosando tra le cinture quando il mobile è caduto, il panico, i genitori e i clienti del negozio sono accorsi per aiutare il bambino. La grande paura, il papà, vogliamo capire come sia potuto accadere, chiederemo un risarcimento. È successo al negozio della Benetton di via Rizzoli, un bimbo di tre anni in compagnia della sua famiglia viene travolto da un mobile, uno dei supporti di metallo gli si conficca nel piede, poverino. La corsa in ospedale dopo la caduta del mobile, si attivano subito i soccorsi, un'ambulanza arriva in via Rizzoli, in pochi minuti trasporta ad urgenza, il bambino all'ospedale Rizzoli. L'operazione, il piccolo viene operato ad urgenza in anestesia totale per rimuovere il supporto di metallo e anche per una frattura nel quarto metatarso del piede destro. Questa è ancora la pagina del resto del carino di Bologna. Andiamo sulla pagina di Repubblica, Borgonzoni, Zuppi, il titolo di apertura e i rifugiati, il vescovo replica e lei se ne va, gaffi in San Petronio, scrive Valerio Varesi, la leghista parla poi esce, Don Matteo non abbandonateli in mare. Allora andiamo proprio nelle pagine interne, Borgonzoni fermeremo i migranti, poi se ne va quando parla Zuppi, la leghista, la maggior parte dei rifugiati, non arriva per fuggire alla guerra, è ora di dire la verità, il vescovo inaccettabile non aiutare un bimbo che muore, le ONG non sono complici degli scafisti. L'incontro sui migranti, la sottosegretaria dobbiamo finirla con l'ipocrisia, Don Matteo, Europa unita per aiutare l'Africa. E poi la leghista è assente, slitta il processo contro la Sinti che l'aggredì, sempre da queste pagine di Repubblica, che ci propone in questo articolo firmato da Valerio Varesi, poi anche alcune immagini fotografiche. Tutti i tagli ai vitalizi degli ex onorevoli bolognesi, Fini e Parisi guadagnerebbero di più e a prodi 800 euro in meno. Questo è un po' il quadro della situazione, andiamo a leggere tutti quelli che sono gli onorevoli del bolognesi che finirebbero all'interno di questo taglio dei vitalizi delle pensioni. Per quanto riguarda Gianfranco Fini, l'ex leader di Alleanza Nazionale, in realtà guadagnerebbe quasi 1.300 euro in più. Giuliano Cazzola invece ne perderebbe 600, ne perderebbero 1.100 Antonio Laforgia, guadagnerebbe di più anche Parisi. Boselli perderebbe 2.600 euro, Franco Grillini 2.200, Prodi oltre 800 euro, Mauro Zani addirittura ne perderebbe 3.300 euro e poi via via. Ci sono poi gli altri elenchi. Fabio Garagnani ne perderebbe 2.700, con la nuova legge a segno più asciutto anche per Boghetta, Olivia e Mauro Zani che perderebbe 3.000 euro. Questo è un po' il tema che viene lanciato da Repubblica che poi ancora ha spazio per l'iniziativa sindaci in trincea contro il governo, l'alternativa riparte dalle città, l'incontro con gli amministratori convocato da Merola ma non saremo un nuovo partito, Pizzarotti, Di Maio e Salvini non hanno fatto nulla, in questa regione vogliamo governare. Pascucci, Cerveteri, ho scoperto la politica con Guccini, ora dobbiamo avere l'ambizione di tornare a vincere. E poi la raccolta firme per insegnare il civismo nelle scuole, ancora dalle pagine sempre di Repubblica su questo tema. Ma vi porto adesso sulle pagine invece del Corriere di Bologna, Rimini le ronde nere in spiaggia, a un anno dallo stupro in Riva al Mare, PD, Leo e gli antifascisti presidi per fermarle. Ma andiamo subito su queste pagine interne del Corriere di Bologna, le ronde nere di Forza Nuova sulla riviera, un rigurgito fascista da fermare, l'iniziativa con l'ultradestra polacca, la rabbia del coordinamento antifascista. L'iniziativa arriva a quasi un anno dalla doppia violenza sessuale in spiaggia che si consumò in quella di Rimini. E poi Zuppi Borgonzoni, sull'accoglienza non c'è confronto, lui parla, lei va via, la leghista critica le ONG, il Vescovo le difende. Aiutarle a casa loro, dobbiamo capire che se facciamo arrivare qui una marea di persone per poi farle finire vittime della tratto o della criminalità, non siamo buoni, vanno aiutati nei loro paesi. La risposta di un'Italia, la risposta di Zuppi è se uno sta in mezzo al mare va a soccorso, è la legge. Poi è vero che l'Italia non può essere l'unico paese che si fa carico dei soccorsi, ci vuole una risposta unitaria da parte dell'Europa, però appunto Zuppi ribadisce che non si possono abbandonare queste persone in mezzo al mare, purtroppo recentemente sono state anche le morti anche di altri due bambini e quello è il discorso chiaramente più drammatico per tutti, ma ovviamente quando dei bambini che sono gli esseri più indifesi e assolutamente più piccoli, più insomma alla fine che vanno difesi e tutelati in tutto, davvero grande è la rabbia rispetto a queste situazioni. Folle bloccare l'Emilia Romagna, il governo non conosce le imprese, l'intervista a Pietro Ferrari, il presidente di Confindustria a settembre chiamo i parlamentari e li porto a visitare le aziende. Siamo come un aereo che sta decollando e questo è il momento di massimo sforzo, loro si occupano dell'offerta e non della domanda. La nostra regione non è fatta soltanto di grandi marchi, ci sono realtà piccole e medie, porterò i deputati a conoscere i problemi, ho l'ottimismo, della razionalità, il passante deve essere fatto perché siamo la prima regione italiana per export. Passante sbloccato all'ultimo atto, convocata alla conferenza dei servizi, esultano Merola, Priolo e Bonaccini, ma Bugani li gela, dice andava fatta, cosa festeggiano, Bonaccini ci sono tutte le ragioni per farlo, però appunto Bugani insiste e dice ma questo passaggio andava comunque fatto. La regione censisce la giungla Airbnb, Viale Aldomoro affida uno studio per calcolare il possibile gettito di tributi dell'ospitalità privata, 9.000 alloggi in tutto il territorio, gli albergatori romagnoli bene, ma serve potenziare l'aeroporto. E poi viene anche lanciato Alberto Tomba come testimonial del turismo sull'Appennino, un Alberto Tomba che abbiamo portato ai nostri microfoni, allora andiamo a sentire cosa ci ha detto, l'intervista è di Francesca Bolognini. Adesso è una sorpresa, con il presidente Davide abbiamo parlato e verrà qualcosa di nuovo per la prossima stagione, ma non solo d'inverno, ma anche estivo. Trekking e tante cose varie che l'Appennino non conoscete. Mi vedrete in qualche sentiero in quota, ma anche qua vicino Bologna. Sono dei posti che in altre regioni d'Italia, io sfido, l'Italia è stupenda, tutto il mondo la conosce, però se uno guarda anche dei paesini che non si rende conto, come questa via di idee, ripeto, che collega Bologna con Firenze, è una cosa nuova che è da provare, quindi che devo dire, venite al più presto. Ma restiamo ancora qualche istante a parlare di turismo con l'assessore regionale Andrea Corsini, per quanto riguarda ovviamente quest'estate, le tante iniziative che vengono promosse, andiamo a sentire. Per noi Alberto Tomba diventa il testimonial della montagna, diventa il testimonial dell'Appennino, diventa il testimonial di una grande infrastruttura naturale che è appunto il nostro Appennino, che dal punto di vista turistico ci sta regalando molte soddisfazioni, che noi vogliamo promuovere in maniera ancora più performante nei prossimi anni, valorizzando tutte le grandi opportunità del nostro Appennino. Quando dico questo penso soprattutto agli impianti di risalita. Noi abbiamo investito oltre 3 milioni di euro in questi tre anni, ne investiremo altri 13 nei prossimi, grazie all'accordo di programma col governo e con la regione toscana, per riqualificare gli impianti di risalita che per noi sono strategici e fondamentali, non solo per la montagna bianca, non solo per gli sport invernali, ma per sviluppare appunto tutto il segmento del turismo sportivo all'aria aperta durante i mesi primaverili, perché riteniamo che l'Appennino abbia delle potenzialità appunto per fare turismo e per essere attrattivo tutto l'anno e da questo punto di vista Alberto rappresenta e rappresenterà nei prossimi anni il nostro ambasciatore. La riqualificazione e la revisione degli impianti di risalita, ma soprattutto il grande nuovo impianto che verrà realizzato al corno alle scale, quindi nell'Appennino bolognese, all'interno di un progetto di realizzazione di un comprensorio con la regione toscana e quindi un unico grande comprensorio scistico che ci consentirà di fare un ulteriore salto di qualità e soprattutto di essere competitivi nel mercato degli sport invernali e non solo, con appunto la possibilità di mobilitare e muovere sciatori dalla Toscana all'Emilia Romagna senza utilizzare l'automo, utilizzando solo gli impianti di risalita. La tempistica di realizzazione del comprensorio di cui diceva prima? Adesso partiranno le progettazioni, quindi la tempistica non sarà brevissima, però contiamo nel giro di un paio d'anni di vedere realizzato il nuovo comprensorio, dipenderà molto anche dalla regione toscana perché noi siamo già a buon punto con la fase istruttoria. Diciamo che ragionevolmente potremmo pensare che nel 2020 si possa inaugurare l'impianto. Torniamo sulle pagine del resto del Carlino, le pagine del Città Metropolitana, andiamo a Zola Predosa, postina derubata da due adolescenti, spariscono motorini e lettere, doppia denuncia per furto, il bottino recuperato, la corrispondenza abbandonata nel parco e consegnata all'ufficio. E poi bus 101, la protesta dei pendolari, sedili scomodi e condizionatori rumorosi, scatta la petizione, il caso dei mezzi sulla linea Bologna-Imo, la Tiper risponde, gli interventi sono in corso. In viaggio con i passeggeri, climatizzazione, affollamento mattutino, i tasti dolenti, luce e ombre sul servizio che trova il suo punto di forza nella puntualità, che non è poco. E poi battaglia sui nuovi cassonetti, andiamo a Cassè San Pietro Terme, in via risorgimento sono su marciapiede, ostruiscono un accesso, questo è ancora il tema. E poi sempre da questa pagina del quotidiano, bus gratis a Bologna per gli abbonati Tiper, Calderara l'agevolazione tarifaria partirà dal prossimo di settembre. Il sindaco Priolo, che è anche assessore alla mobilità del Comune di Bologna, è sindaco di Calderara, dice l'integrazione per il biglietto unico verrà sostenuta dal Comune, quindi questa altra situazione lanciata dal quotidiano. Torniamo sulle pagine del Corriere di Bologna, sempre eccoci qua, andiamo a leggere, crolla l'espositore delle cinture, Asta trafigge il piede di un bimbo, anche il Corriere di Bologna ha la notizia di quanto è accaduto a questo bambino di tre anni nel negozio di Benetton di Via Rizzoli, momenti di paura nel negozio, al negozio Benettoni, il piccolo tre anni è stato operato. E poi figlio in era, condannati i dirigenti, due anni al padre, ex ispettore Anac, cinque mesi al funzionario che gli offrì uno stage. Poi Alessio Perizia sul Paragadute, chiamato un esperto della folgore, funerale intanto domani alla Certosa. Dem la Regione, adesso investimenti, la FIOMO un problema agli accordi difensivi, ieri la firma al MISE, integrativo ridotto per salvare il lavoro, e tutte blu intesa perché non vorremmo ripetere. Questa è ancora la pagina del quotidiano. Con il Corriere di Bologna saliamo in quel di Pinzolo, Bologna ultimi ritocchi alla rosa, Rispoli in fascia, Tonelli al centro, Inzaghi valuterà anche Ilander e González, quando li avrà in gruppo. E domani sera avrete la possibilità in esclusiva di vedere su Nettuno TV alle 21 la prima uscita ufficiale di questa stagione per quanto riguarda il Bologna Calcio, è un'amichevole, però è la prima uscita contro il Pinzolo, la squadra di Pippo Inzaghi, quindi cercheremo di capire, di scoprire qualcosa, la diretta esclusiva su Nettuno TV, TV ufficiale del Bologna Calcio, TV ufficiale del ritiro del Bologna Calcio di Pinzolo 2018, il commento sarà affidato a Filippo Cotti e Renato Villa, e la direi, come detto, potete seguire in esclusiva alle 21 su Nettuno TV, canale 99, per questo motivo la puntata di 12 porte verrà anticipata alle 20 e 30 e poi verrà messa anche a seguire subito dopo. Voglio anche ricordarvi quest'oggi, visto che siamo in fase di racconto nel nostro paninsesto, che alle 17 e 30 vi trasmetteremo in diretta dalla Cattedrale di San Pietro di Bologna la messa in suffragio per il Cardinal Giacomo Biffi, terzo anno dalla sua salita al cielo e questa sera appunto la Santa Messa presunta dal Cerescovo di Bologna e la diretta televisiva di Nettuno TV. Andiamo ancora proprio a scoprire qualcosa, sempre da queste pagine dei quotidiani, voglio riportarvi anche sulle pagine di Repubblica di Bologna, al di là delle notizie già viste, eccoci qui, passante vertice governo regione comune, il ministro Toninelli accetta la proposta della conferenza dei servizi, Bugani aveva detto non si farà, però lui dice un atto dovuto, e poi ai prati di Caprara riemergono bombe e proiettili, artificiali dell'esercito al lavoro nell'aria e spuntano anche delle granate da mortaio. E poi ancora cede una scansia da Benetton, bimbo di tre anni rischia la vita, un pezzo di metallo si è conficcato nel piede del Piccino, operato a Rizzoli, il padre, attimi di terrone e di terrore, ci crediamo, e poi ancora, sempre dalle pagine del quotidiano, corri all'indietro e vinci i mondiali, la sfida più folle, a Cabura un centinaio di concorrenti da 21 paesi, si contendono le medaglie, c'è chi è partito per curarsi e chi non smette più, questa diciamo così è l'ipotesi di idea. Allora, prima di andare in break pubblicitaria, voglio riportarvi anche sulle pagine del quotidiano sportivo, e voilà, Francia un passo dal sogno, un gol di Amtiti, piega il Belgio dei miracoli, blues in finale 12 anni dopo la notte di Berlino, ma noi italiani stavolta stiamo a guardare, finisce 1-0, la prima finalista, quest'oggi si gioca Inghilterra-Croazia. Andiamo a Pinzolo anche con il quotidiano sportivo, l'inviato del carlino Marcello Giordano, destro, voglia di riprovarci, adesso sembra un altro, sorrisi e disponibilità, Mattia ha davvero svoltato. Poi quota 5.000 in 8 giorni intanto per gli abbonamenti al Bologna, i crisi di che saluta, e poi ancora pazza per il Bologna, quant'attesa, il difensore sono stato all'annus in prestito 6 mesi, non vedevo l'ora di venire in Italia. Voglio ricordarvi molto rapidamente che tutti i giorni sono due i momenti del nostro collegamento, la nostra fascia sportiva con Pinzolo, la prima durante l'edizione del telegiornale delle 13.15, la seconda il pomeriggio nella fascia sport 18-19, e dove vi proponiamo la presentazione dei vari giocatori, delle conferenze stampa, le nostre interviste esclusive su, e poi ovviamente i collegamenti, dove vi facciamo vedere all'allenamento del Bologna, quello che succede e quant'altro, quindi davvero una Nettuno TV, molto presente, molto forte, anche da questo punto di vista. Virtus, oggi i sorteggi di Champions, lasciamo il calcio e andiamo nel basket, spunta il nome del francese in Baie per il reparto dei lunghi, la fortitudo ufficializza l'ala Benevelli, è un figlio d'arte, il padre ha vestito la maglia dell'alco, questa è ancora la prima pagina delle pagine, quanto riguarda lo sport. Poi ci parla anche di Andy Bike, la sfida di Alex Zanardi per i giochi del 2020, a Tokyo per una medaglia, e diventare talent scout, questa è ancora la pagina, per quanto riguarda il quotidiano sportivo. Allora, arrivato il momento di fare il nostro break pubblicitario, lo facciamo, tra poco torneremo insieme ancora con i quotidiani di Bologna, uno sguardo a quelli nazionali, i nostri servizi in questa mattinata, questo mercoledì 11 luglio 2018. Questa è Nettuno TV, grazie per averci scelto anche in questa giornata, e grazie perché ogni giorno siete sempre più numerosi a seguirci in televisione, in streaming, e adesso anche attraverso la nostra pagina Facebook, dove facciamo veicolare in diretta le edizioni dei telegiornali e i collegamenti da Pinzolo. Adesso c'è il break, state con noi.